Il modo più affidabile per sapere gli effettivi chilometri di un'automobile ed il numero di proprietari è quello di mandare ad analizzare il coprisedile per valutare la quantità di batteri fecali che l'hanno colonizzato che sono direttamente proporzionali al tempo di permanenza del conducente su di esso e le tracce di DNA per valutare il numero reale di proprietari. Dunque trovandomi nell'urgenza di rimpiazzarlo essendo un cliente medio e volendo risparmiare il più possibile per un prodotto decente, la soluzione è stata Enco di Eurospin. Già che c'ero, come sanno bene gli addetti al marketing, ho affiancato all'acquisto del coprisedile anche quello del necessario per rendere smart la sempreverde Fiat 127 Sport 70 HP per una massa di soli 775 kg del settembre 1978 nera striata di arancione per mettere in guardia durante eventuali brucianti partenze semaforiche gli onnipresenti malintenzionati neopatentati magari alla guida di fiammanti coreane. Anche se ad un occhio più allenato sarebbe bastato notare lo spoiler anteriore e posteriore e di cerchi in lega caso mai la scritta 70 HP fosse stata erosa dal tempo o ritenuta falsa cineseria. L'installazione del coprisedile è stata semplice e veloce anche se per rendere più stabile il tutto, almeno nel mio caso, ho dovuto respirare un po' di polvere di terriccio di provenienza ignota, per far passare la molla tra la seduta e lo schienale ed agganciarla sotto il sedile infilandola sulla leva per lo scorrimento del sedile. Per rendere smart un qualsivoglia mezzo di locomozione bisogna poter comodamente utilizzare Android Auto, magari mediante un supporto stabile ed all'occorrenza facilmente orientabile, un cavo USB di lunghezza e robustezza adeguata, un caricabatterie da accendisigari discreto ma di capacità di almeno un ampere, nello specifico quello preso è da 2,4 ampere. Il supporto che ho acquistato è del tipo pinza da agganciare alle bocchette del clima, ma avendo pegramente pensato che tutto fosse stato progettato per rendermi la vita facile e non per vendere, ho presto fatto i conti con la cruda realtà data dal reticolo delle bocchette troppo fitto per la grandezza della pinza. Ma fortunatamente, grazie all'immancabile invocazione di tutti i santi, sono riuscito a trovare un punto di aggancio alternativo soddisfacente. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse invitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Google portami a Lisbona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.